credendo in noi stessi non riusciremo secondo me a vedere voi da certe situazioni che adesso sta peggiorando ancora. Quindi questa è la ragione del premio e con l'estrema gioia vorrei previare appunto queste tre realtà insomma compresi gli astrofoghi che hanno scoperto questa variabile come lavoro di gruppo eccetera eccetera. Per me si può anche procedere, che è così.